Questa è la sua eminenza, il Cardinale Ravasi, che ha fatto il ritiro spirituale per il nostro Papa Emerito, prima del conclave. Ci sono qualche parola sul nostro nuovo Papa? Certamente, è stata una sorpresa per molti. Per noi è stata una sorta di scoperta che abbiamo fatto lentamente, ma in un arco di tempo breve, attraverso una riflessione comune, così da raggiungere, nello stesso arco di tempo con cui è stato eletto il Papa precedente, anche questo Papa, che era del tutto inatteso. L'augurio è che tutti lo possano scoprire per due ragioni, prima di tutto per la sua straordinaria capacità di incidere attraverso parola e azione, le sue labbra, le sue mani, il suo volto e il suo pensiero. E dall'altra parte che lo scoprano anche per la sua spiritualità, che è profondamente legata alla storia, alla vita di tutti i giorni, perché lui è vissuto in un paese che ha sofferto molto, che ha avuto drammi, che ancora ora vive anche con grandi fasce di povertà. Per cui la sua parola sarà sempre non una parola aerea, vaga, ma una parola incisiva, che ferirà le coscienze. Grazie.